Buonasera, coach. Sono Cristiano Di World Round. Volevo chiedere, è stata importante la zona per portare l'inerzia nella partita? Volevamo chiedere con quale spinto da una partita del genere affrontate il Big Benchable? Sicuramente la zona è stata utile, hanno un po' cambiato il loro ritmo. Abbiamo messo un po' di sabbia negli interamaggi. Era un po' che ci stavamo lavorando, non l'avevamo ancora usata. Oggi è stata sicuramente decisiva. Ma guarda, cerchiamo di affrontare le partite sempre con lo stesso focus. Cioè vincere Bologna non è diversa dalle altre. È ovvio che giochiamo contro una squadra molto forte. A che fallovo lei l'anno scorso è arrivata in finale suddetto. Non dobbiamo andare lì con l'idea di averlo già perso. Ma dobbiamo andare lì per cercare di fare la nostra buona partita e di giocare come non abbiamo giocato stasera. Quindi con grande determinazione e grande entusiasmo. non ho ancora pensato alla partita di Bologna, ma se mi chiedi come andiamo io dico che per noi tutte le partite dovrebbero essere una uguale all'altra. Se siamo una squadra dove tutte giocano con determinazione per arrivare allo stesso obiettivo siamo una buona squadra. Se già ne mancano due o tre facciamo un po' fatica. Con Bologna si farebbe ancora più fatica di quella che abbiamo fatto stasera sicuramente. Anzi, probabilmente non c'è partita. Quindi io dico sempre per giocare contro quelle big abbiamo bisogno di dieci giocatrici che vadano in campo con grande determinazione.